Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6 oggi è sabato 2 gennaio 2016 prima trasmissione dell'anno ovviamente gli auguri di buon anno nuovo a tutti quanti voi che ci state seguendo partiamo subito con la nostra rassegna stampa iniziando dal quotidiano Il Centro queste le prime pagine partiamo da Pescara Polmonite, bimba in rianimazione la piccola di 3 anni di Montesilvano è stata trasferita d'urgenza in elicottero al Salesi di Ancona i medici gravi complicanze respiratorie per l'infezione contratta dopo un intervento nelle cronache 9 casi al mondo rarissimo Ictus pescaresi operato e salvato a Teramo e poi perseguita la ex moglie nelle cronache di Montesilvano lo stalker non si arrende viene arrestato e ancora sempre a Montesilvano comune in rosso un multato sul 3 non paga a centro pagina la fotografia grande concerto in Piazza Salotto in 20.000 cantano e ballano con Mannarino per l'anno nuovo andiamo a leggere anche la Didascalia grande concerto di Capodanno in Piazza Salotto con oltre 20.000 persone arrivate anche da fuori regione per assistere allo spettacolo del cantautore romano Alessandro Mannarino dopo la performance andata in scena nella stessa piazza nella notte di San Silvestro con gli apprella class Pescara festeggiato con brindisi e bagno di folla il primo giorno del 2016 e poi andiamo a vedere anche l'editoriale firmato da Mauro Tedeschini autostrade aumenti a tradimento ovviamente la notizia riguarda gli aumenti sulla A24 ed A25 andiamo a leggere anche qualche passaggio e il Modancor m'offende forse eccessivo scomodare Dante per la solita querelle di Capodanno sugli aumenti autostradali ma è pur vero che la Manfrina puntualmente messa in scena sui rincari delle tariffe è congegnata in modo così maldestro da farci sentire tutti presi in giro scrive Tedeschini come sempre si aspettano le ultime ore dell'anno per far sapere a quanto ammonta il Salasso quando le redazioni dei giornali sono chiuse e la testa degli italiani è tutta concentrata sull'imminente veglione la motivazione poi è iaconica e l'aconica scusate al limite dell'incomprensibile perché la Milano-Torino rincara del 6,5% mentre le autostrade abruzzesi come detto a 24 e a 25 aumentano del 3,45 e altre ancora non ritoccano affatto le tariffe boh sia chiaro che chi scrive preferisce spendere qualche soldino in più per percorrere un'autostrada sicura piuttosto che viaggiare a basso prezzo su un'arteria dissestata e pericolosa ma questi aumenti di contrabbando sembrano fatti apposta per portare acqua al mulino delle associazioni di consumatori più becere populiste non solo c'è troppa poca trasparenza anche sulla vigilanza che il Ministero effettua sulle concessionarie perché se fosse una cosa seria certi pesaggi dovrebbero diminuire altro che aumentare esempio il tratto marchigiano della 14 e danni un percorso ad ostacoli che grida vendetta con una serie di tortuosi e interminabili lavori in corso che mettono a forte rischio la sicurezza serve più trasparenza su tutto le autostrade le hanno pagate gli italiani con le loro tasse e non sono un affare di loro signori da regolare comodamente per poi notificare al popolo a babbo morto l'ultimo dell'anno insomma un giudizio abbastanza netto quello di Tedeschini è in parte anche condivisibile l'intervista scendiamo sotto la fotonotizia si parla di sport di Francesco Juve da Scudetto io voglio volare con il Sassuolo così il tecnico pescarese del Sassuolo e ancora ripeto vota Pescara e da Oddo ottiene il sì di Domizzi nel frattempo andiamo adesso nel taglio basso della prima pagina del centro per vedere assieme il buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna che Cozzalone è meglio del Censis riuscirà che Cozzalone con Covado abbattere il suo record di incassi 52 milioni di euro stabilito con il sole a Catinelle a vedere le file davanti alle 1300 sale dove ieri in tutta Italia Abruzzo compreso e in programmazione il suo nuovo film non ci dovrebbero essere dubbi ormai il comico pugliese è come uno di quei ciclisti che sbaragliati rivali gareggiano solo contro se stessi in Covado il tema principale è quello del posto fisso quello che il protagonista Checco rischia di perdere perché non c'è più bisogno di un ufficio provinciale della caccia pur di conservarlo Checco accetta di trasferirsi ovunque perfino al polo dove telefonando a casa avverte che fa più freddo che a Roccaraso il film è un inno nostalgico ironico all'Italia della Prima Repubblica quella come numera Checco in una canzone che è già un tormentone dei cosmetici mutuabili delle verande condonabili dei castelli medievali ed equo canone insomma se cercate un po' di satira vera sulle condizioni di salute del paese è inutile rivolgersi ai soliti comici addomesticati e politicamente corretti Zalone più convincente di un rapporto del Censis certo parafrasando il Galileo di Brecht verrebbe voglia di dire sventurata la terra che ha bisogno di comici ma anche fortunata se nonostante tutto riesce ancora a ridere di se stessa adesso andiamo sotto la testata del centro per vedere i richiami dal nazionale economia e politica Mattarella sono troppi giovani senza lavoro e poi lo smog inverno ormai in arrivo l'Italia torna a respirare adesso restiamo sempre al centro andiamo a vedere le altre prime pagine provinciali questa è la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto tabaccaia rapinata con il macete l'apertura Lanciano un giovane col berretto calato sugli occhi ha fatto irruzione nella rivendita in via del mare attimi di terrore per una cliente la titolare che gli ha consegnato l'incasso di 300 euro nelle cronache fugge in auto a Vasto in veste ciclista caccia la pirata della Trinina in Chieti il doppio evento sono gemelli i primi e gli ultimi nati e ancora nello sport domani la fortitudo Anconetani faccio il tifo per la Proger sotto la fotografia che andremo a vedere tra poco si spara al cuore al cimitero Chieti in una lettera scrive seppellitemi accanto alla mamma e poi scoperti autocarri furgoni e gru dimenticate il comune abbandona 20 mezzi ecco il cimitero degli sprechi con una mano taglia le spese e chiede rigore ai cittadini con l'alta spreca soldi pubblici il comune Dubblefass dimentica nel piazzale di un'autocarrozzeria la bellezza di 20 mezzi pubblici manda in malora furgoni con gru autocarri e Fiat Doblo mezzi acquistati usati anche per poco tempo e poi portati a riparare e poi abbandonati il caso più eclatante un furgone costato 70 mila euro con appena 3.500 chilometri ma fermo da tre anni adesso andiamo ancora avanti andiamo a vedere le altre prime pagine la pagina di Teramo titolo di apertura ha condannato il promotore grillino il giuliese mercante consigliere regionale dei 5 stelle insieme a Fineco Bank deve risarcire un cliente 29 mila euro di commissioni per operazioni finanziarie che il giudice ha ritenuto nulle nelle cronache solo 9 casi al mondo l'abbiamo letto già in precedenza sulla prima pagina di Pescara rarissimo Ictus operato al Mazzini sempre nelle cronache di Teramo grande addio al presidente della Torrese c'era tutto il paese a rendergli omaggio in Tortoreto ex dipendente fa causa al circolo tennis per mobbing e poi a centro pagina la bella fotografia dei festeggiamenti di Capodanno il bilancio del Capodanno zero feriti per i botti migliaia di teramani al concerto in piazza andiamo ancora avanti andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro la prima pagina di L'Aquila Vezzano Sulmona cocaina Capodanno un arresto L'Aquila fermato al casello autostradale un 49enne che aveva in macchina 100 grammi di droga lo stupefacente destinato a feste private l'indagine della polizia però non è ancora conclusa nelle cronache a Paganica ha trovato morto il pensionato scomparso in Sulmona il gastolano picchia agente del carcere e poi a Scanno San Silvestro senza acqua in hotel e case sotto la fotografia barista uccisa killer liberi Avezzano giallo risolto la procura archivia dopo 4 anni e poi come detto la fotonotizia donne di eccellenza da Cagnano all'Italia Mirna la dottoressa degli aerei che comanda 500 uomini andiamo a leggere anche la didascalia l'ingegnere Mirna Marini originaria di Cagnano Amiterno coordina il lavoro di 500 collaboratori tutti uomini che sono addetti alla manutenzione dell'Alitalia fanno le verifiche su ben 120 aeroplani della compagnia di bandiera Marini lavora con l'Alitalia dal 1998 e vive ormai a Roma ma resta legatissima al suo paese di origine dove torna spesso e dove ha passato la sua infanzia e anche una bambina di 8 anni Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina del messaggero Abruzzo dunque cambiamo testata Pescara botte di capodanno in riva all'Adriatico meno botti ma notte violenta Teramo un successo invece la festa in piazza l'Aquila le mure illuminate riaccendono la speranza solo un ferito ad una mano avvasto e poi la stangata è rivolta contro i rincari autostradali puntuali come il brindisi di fine anno dalla mezzanotte del primo gennaio è arrivato l'annunciato aumento delle tariffe delle autostrade a 24 e a 25 più 3,45% come deciso dal Ministero dei Trasporti a fronte di una richiesta del 4,70% che era stata avanzata dalla strada dei parchi il secondo aumento più caro d'Italia osserva il deputato di Selle Gianni Melilla che non è il solo a parlare di vergogna e a invitare le istituzioni abruzzesi in primis la regione ad assumere una netta posizione per impedire questa ennesima ingiustizia scendiamo adesso a centropagina la Cicogna e il record di Beatrice a Pescara la prima nata del 2016 e poi soldi alla cultura la regione stanzia 1,4 milioni di euro i fondi del Furco andranno a sostenere tutte le manifestazioni accreditate di spalla sulle nevi di Roccaraso un'invasione di VIP per le vacanze il più ricercato è stato Gianluca Ginobble star il volo andiamo a vedere anche i richiami sotto la testata banche crack 60 dipendenti della Carichietti minacciati dai risparmiatori poi lo smog a Pescara il vice sindaco del vecchio targhe alterne anche se piove e poi il calcio non era affatto ubriaco al momento dello scontro il Giuliese del Grosso si difende dalle accuse mi tutelerò legalmente nei confronti di chi ha pubblicato queste notizie del tutto false dunque questa la prima pagina del messaggero adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale e andiamo a vedere insieme le prime pagine dei principali quotidiani nazionali partiamo dal Corriere della Sera Tel Aviv il terrore nel pub l'emergenza un Corano nello zaino del killer allarme a Monaco caccia ad un gruppo di iracheni un arabo israeliano spara due morti e sette i feriti il padre lo riconosce e lo denuncia poi a centropagine il ritorno in Libano tra i rifugiati siriani da parte di Mika il racconto il cantautore e la campagna delle Nazioni Unite poi sotto nel taglio alto il Quirinale Mattarella richiamo contro l'evasione la spinta ad impegnarsi per i giovani in retroscena del discorso di fine anno le frasi su migranti ed ambiente andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali questa è la Repubblica lavoro e fisco coro di consensi per Mattarella l'evasione equivale a sette punti di PIL Salvini sui migranti ci ha dato ragione e poi a centropagina vedete la fotonotizia due morti e sette feriti assalto armato al pub terrore a Tel Aviv caccia al killer e un arabo israeliano a centropagina ci sono anche le banche la mossa per fermare la fuga dalla banca e Truria subito gli indendizi a chi ha perso tutto con i bond scendiamo anche nel taglio basso bestemmia e brindisi in anticipo il capodanno nero di Mamma Rai il 2016 arriva un minuto prima sulla tv pubblica e c'è stato anche un messaggio contenente una bestemmia che evidentemente è sfuggita al controllo e poi unioni civili scontro sulle adozioni spunta l'ipotesi del superaffido pronto un emendamento dem alla riforma andiamo adesso avanti la stampa Jihad la mappa degli espulsi porta in Albania e nei Balcani nel 2015 il Viminale ha rimpatriato 65 accusati di terrorismo attentati intanto notte di paura a Monaco attacco ad un pub a Tel Aviv due morti e sette feriti a centropagina l'affondo di Mattarella scontro contro l'evasione di Mezzarla vale 350.000 posti di lavoro il messaggio di fine anno Renzi ha parlato al cuore degli italiani poi le autostrade Torino-Milano ancora rincari rischi aumenti sulle altre tratte abbiamo visto anche in Abruzzo come aumentino le tariffe dell'autostrada a 25 e a 24 andiamo ancora avanti il sole 24 ore il quotidiano economico apre con le banche perché si parte con le nuove regole dell'Unione Europea in vigore la normativa sui salvataggi ecco cosa cambia per i risparmiatori garantiti i conti correnti fino a 100.000 euro per le obbligazioni entro gennaio i decreti sugli arbitrati poi il messaggio di fine anno del presidente Mattarella troppi senza lavoro evasione fiscale inaccettabile Renzi dice un discorso diretto al cuore degli italiani poi sotto la testata il terrorismo due morti in Israele Teraviv assalta un pub feste blindate invece in Europa e poi l'analisi lo spartiacque tra islam e radicalismo jihadista andiamo ancora avanti il messaggero evasione il colle apre il fronte nel suo messaggio in tv Mattarella denuncia oltre 120 miliardi sottratti al fisco e troppi senza lavoro Renzi dalla lotta all'elusione taglio di 5 punti irpe fin due anni si studia una proroga a rientro dei capitali e poi terrore a capodanno Tel Aviv spara in due pub due morti Monaco caccia a sette kamikaze in Israele il killer è stato riconosciuto dal padre che lo ha denunciato e poi la gaff di Rai 1 bestemmia indiretta e brindisi in anticipo bufera sul veglione di San Silvestro in tv sospeso il responsabile degli sms in video e ancora il provvedimento in vigore il famosissimo ormai bail-in salvataggi bancari senza soldi pubblici andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali nazionali questo è libero 2016 si parte con gli aumenti autostrade e aerei più cari tanti auguri da Renzi i pedaggi salgono fino al 6% il 70% del costo del Voro Roma-Milano va in tasse e cresce ancora dimezzati gli incentivi a chi assume e si impennano i balzelli sui licenziamenti e solidarietà poi canonerà in bolletta ad agosto con una maxirata proprio dopo le elezioni poi ancora a centro pagina provocazione ora la guerra è più vicina attentato stile ISIS in Israele e in questa fotonotizia spuntano anche i tagliagole del presepe Bambin Gesù impiccato e San Giuseppe decapitato andiamo al foglio adesso buon anno Israele si torna ovviamente a parlare degli attentati attentati in un bar di Tel Aviv due morti e diversi feriti falciati da un arabo israeliano le minacce jihadiste dei giorni scorsi e le esultanze di Hamas in occidente intanto secondo il foglio continua la delegittimazione dello stato ebraico e poi disaccordo sul nucleare leggiamo anche questa notizia Obama congela le sanzioni all'Iran che testa missili illegali ed ottiene impunità ringhiando su Twitter adesso vediamo il tempo la prima stangata dell'anno si paga al casello autostradale pedaggi rincari su sei tratte che presto diventeranno 21 Sarasso sulla Roma Pescara in 13 anni è aumentata del 187% e poi appoggio alle linee del Premier Mattarella non disturba il conducente per il primo discorso alla Nazione da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sceglie il salotto di casa ignora le tensioni della politica e parla di lavoro e immigrazione e poi sprechi attese ecco i dati shock della sanità pubblica nel Lazio un'ecografia passi nel 2017 dunque insomma liste di attesa che restano sempre un problema e ancora il piano intercettato in rete di spalla Anonymous e Isis l'attacco sventato era per Firenze e poi l'affondo dei Verdi i buchi neri sullo smog arrivano in procura e a Roma da martedì il vero a fare dei saldi con grandi firme outlet andiamo avanti ancora il mattino di Napoli università il sud si svuota crollo di iscritti e laureati tasse aumentate del 50% cresce il divario con il nord nelle inchieste per le inchieste del mattino dal 2008 l'Italia ha ridotto gli investimenti del 20% invece in Germania sono aumentati del 21% e poi il discorso di fine anno del presidente i costi dell'evasione la sfida di Mattarella vale 7 punti di pille circa 300.000 posti di lavoro scendiamo a centro pagina il blitz attentato al pub due morti a Tel Aviv sono i nazionalisti capodanno di sangue in Israele per gli attentati che abbiamo letto anche in precedenza e poi la rotta allo smog sei giorni di blocco esclusa l'epifania Napoli stop alle auto aspettando la pioggia la polemica per quanto riguarda il capodanno sulla Rai finisce anche sul mattino di Napoli il capodanno metafisico di Nonna Rai il 2016 è arrivato un minuto in anticipo e un sms contenente una bestemmia andiamo avanti avvenire mai più indifferenti questo è il titolo di apertura il Papa il Capo dello Stato in sintonia sui temi dell'immigrazione della difesa dell'ambiente del contrasto alle ingiustizie aperta la Porta Santa intanto a Santa Maria Maggiore Francesco un oceano di misericordia antidoto a odio e violenze Mattarella famiglie da tutelare impegno sul lavoro ed evasione e poi nella fotonotizia Terra dei Fuochi ufficiale uccide la conferma da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità andiamo ancora avanti e adesso andiamo a leggere insieme l'unità il tramonto del Grillo dopo le visioni mistiche di Casaleggio e un caso nei 5 Stelle il Grillo parlante di Capodanno il comico non fa più ridere con la sua gestione stalinista della retorica del Sacro Web e poi troviamo a centropagina al CERN la svolta rosa di Fabiola Giannotti la scienziata e ricercatrice alla guida del CERN di Ginevra e poi a fianco alla testata dell'unità clamoroso studio dell'Unione Europea più scuola meno tasse sul lavoro e il PIL italiano va su del 23% forse sono stime un po' irrealistiche poi non sono più le mie guerre stellari George Lucas il padre della famosa saga sconfessa il film targato Disney Siamo avanti il manifesto guerra promessa e questo è il titolo di apertura con la fotografia contro Daesh il buio oltre la vittoria e l'articolo di Giampaolo Calchi Novati attacco armato a Tel Aviv due vittime ancora morti palestinesi nei territori occupati ride contro il PKK dell'esercito turco che nonostante l'ONU resta in Iraq a Mosul in mano all'ISIS attentato talebano a Kabul è solo il primo giorno del nuovo anno e certo non si è aperto nel migliore dei modi purtroppo continuano le notizie e i venti di guerra il messaggio di fine anno di Mattarella lavoro legalità e non cita mai la riforma e poi l'intervista a Matteo Orfini Roma Fassina non rompa il centro-sinistra gli elettori e gli amministratori alla fine non lo seguiranno e dunque questa diciamo la rassegna per quanto riguarda i quotidiani nazionali e adesso andiamo a vedere restando sempre al nazionale i principali quotidiani sportivi iniziamo dalla gazzetta dello sport Inter selfie scudetto Murillo il nostro dovere è lottare per il titolo eppure Mancini ora ci crede sotto la testata della gazzetta dello sport 2016 abbiamo Fede Pellegrini sventola bandiera azzurra a Rio cerco nuove notti magiche e poi il re dello sprint e col cambio di vocale Pellegrino fa l'impresa nel fondo la sesta meraviglia e poi di spalla va Juve pronto il rilancio per Gundogan oltre 30 milioni di euro il regista del Borussia vuole giocare in Champions League un assist per Marotta poi i top e i flop di Bala che a fare condo si è svalutato Donnarumma boom quindi si parla anche dell'ex terramano della Salernitana lo Juventino pagato 40 milioni oggi ne vale 80 il Baby Rosso Nero adesso è quotato 30 milioni di euro nel taglio basso la storia Crotone è tutto un teorema da Pitagora alla Serie A per restare ai temi della Serie B andiamo adesso avanti a leggere il Corriere dello Sport Scudetto l'Inter ci crede siamo primi e forti possiamo migliorare la Juve la piuttosta Brozovic un amico diventerà grandissimo Mandzukic è super queste le parole nell'intervista a Ivan Perisic e poi l'Avezi Vanderville l'assalto ora è doppio per quanto riguarda il calcio mercato futuro bianconero Juve Sicure questa la stagione di Dybala il Baby attaccante farà gli straordinari con la Nazionale ha stregato il suo CT andiamo a vedere anche sotto la testata Napoli su Maximovic poi Gomez e Classen De Laurenti scatenato porterà un campione nella mia squadra dunque anche il Napoli ci crede insomma per la lotta allo scudetto e soprattutto per raggiungere un posto in Champions nel taglio basso la Premier in Liverpool va a caccia del Tris per l'Europa la Liga James scappa alla polizia a 200 all'ora e poi i mondiali di Londra show soldi e brividi le freccette incantano e poi il consiglio di Gattuso Milan segui solo l'esempio della signora andiamo a vedere anche tutto sport la Juve ha scelto Gundogan il tecnico spalleggiato dal DS e dal vicepresidente ha indicato nel tedesco del Dortmund il rinforzo indispensabile per il centrocampo bianconero quelle foto in vacanza con Pogba Allegri con Paratici e Nedved in pressing su Marotta per ottenere il giocatore dove vai Zazza i bianconeri non mollano i dubbi del Bomber tentato dal West Ham e dalla prospettiva di blindare il posto in nazionale poi i falsi nove meglio io e meglio Mandzukic Tony esclusivo Juve Verona di Bala del Neri il Bayern e il futuro dunque in un'intervista all'ex attaccante della nazionale poi interventi e raddoppia con Diarrà si fa l'avezito ir ordina il piano tagli per fare solo campionato e Coppa Italia siamo in troppi incassando 25 milioni arriveranno i due colpi poi Lopez formato maxi chissà senza Zavorra 97 kg 10 di troppo Ventura continua ad aspettarlo mercato Bellanda più vicino oggi il sì della Dinamo Kiev si chiede il giornale poi oltre la rabbia di Balotelli Milan anni 90 generazione Champions poi Ronaldo senza freni arrogante neanche Dio piace a tutti insomma un paragone probabilmente un po' ardito poi United e Chelsea si lanciano su Simeone l'allenatore dell'Atletico nel mirino delle due big della Premier intanto il Leicester dei Miracoli Brinda Vardi e Marez nel taglio basso l'asse Napoli Samp Gabbiadini e Soriano che intrighe poi un esterno per Reia Atalanta Ciao Morales ecco Larsson e poi lo scinordico Pellegrino al sesto centro è un record questa la rassegna nazionale adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario poi torniamo nella seconda parte a parlare della nostra regione tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alle notizie della nostra regione torniamo sul quotidiano Il Centro alla pagina Abruzzo troviamo gli aumenti record su A24 ed A25 più 3,45% andare a Roma è un salasso scrive il centro più al casello che dal benzinaio sfondato e il muro dei 19 euro da Chieti a Pescara proteste in difesa di pendolari e ditte di trasporto accuse a Toto e Regione Melilla di Sel porta il caso in Parlamento ma strada dei parchi si difende andiamo a vedere i nuovi pedaggi poi vediamo anche le dichiarazioni Chieti Pescara Est Roma Est 18,50 euro era la tariffa adesso sarà 19,10 euro sono 185 i chilometri da Avezzano Est a Roma Est l'aumento è di 80 centesimi arriva a 9,90 euro per 96 chilometri l'Aquila Est Roma Est aumenta a 12,10 euro da 11,70 euro per 117 chilometri l'Aquila Est Avezzano Est viene portata a 5,50 euro l'Aquila Est Teramo a 5,30 euro e Teramo Roma Est a 17,20 euro per 167 chilometri andiamo a vedere anche le dichiarazioni Cesare Ramadori dice il 57% delle nostre tariffe vanno alla parte pubblica con il restante 43% manteniamo in funzione e adeguiamo l'autostrada Gianni Melilla di SEL siamo ben oltre l'inflazione l'aumento è ancora più ingiusto se si considera lo stato dell'autostrada ormai vecchia ed insicura Felicia Mazzocchi i costi aumentano a fronte di un servizio discutibile per i pendolari il ticket rappresenta un costo da sottrarre alla famiglia andiamo a vedere anche nel taglio basso regione il bilancio passa all'alba cambiando argomento entrate e spese aumentano di 1,4 miliardi Paolucci pochi margini va rivisto saliamo invece andiamo a vedere di spalla per la ASL unica si parla di sanità sede all'Aquila da Pescara arrivano i primi insorge Pescara contro il progetto della ASL unica regionale con sede della direzione all'Aquila il problema non è rivangare Beceri e superati campanilismi ma di chiarire due aspetti attacca Licio Di Biase coordinatore di Pescara tutela selfie ricordando che quando furono definite le competenze territoriali dei vari assessorati dopo la scelta di porre all'Aquila il capoluogo di regione si stabilì che Pescara fosse il centro della sanità regionale tanto che gli uffici e l'assessorata della sanità della regione hanno sede a Pescara e qui ruotano le strutture ospedaliere più importanti così Licio Di Biase andiamo adesso sul messaggero per vedere anche qui le notizie dalla pagina regionale stangata sulle tariffe autostradali un coro di proteste l'onorevole Melilla dice è una vergogna intervenga la regione il CNA è una costante degli ultimi anni ecco tutti gli aumenti il gestore non potevamo più mantenere messe in sicurezza i livelli occupazionali con le tariffe precedenti questa la difesa del gestore di A24 ed A25 poi l'ambiente stoppa l'edificazione sulle sponde dei fiumi e ancora regione finanziamenti per le opere pubbliche arrivano i fondi torniamo sul quotidiano il centro adesso andiamo andiamo avanti con la lettura del giornale D'Alfonso in cassa il primo round con la signora No il ministero interviene d'autorità sulla soprintendente ha senso di massima i pareri negati senza motivazioni dunque si torna a parlare dei 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 no della soprintendenza soprattutto per quanto riguarda Pescara a Ponte del Cielo e alla ristrutturazione al nuovo progetto anzi del di rinnovo dello stadio Adriatico Cornacchia andiamo andiamo ancora avanti con la lettura del centro e andiamo alla prossima pagina Abruzzo aspettando i saldi c'è lo stop ai nuovi centri commerciali da martedì 5 il via ufficiale ha due mesi di sconti nel frattempo si fanno sotto banco sempre gli stessi sconti insomma i commercianti cercano ovviamente di incassare anche prima dei saldi agevolando gli acquisti prorogata fino al 2018 la moratoria sulla grande distribuzione ora spazio al commercio urbano e poi sbloccati i fondi per i lavoratori in cassa integrazione la notizia era arrivata prima della fine dell'anno insomma ci sarà il pagamento della cassa integrazione con i soldi che arrivano dalla regione andiamo alla pagina di Pescara adesso per parlare del capodanno in 20.000 cantano con Mannarino pienone in piazza Salotto per il cantatore romano che ha aperto il nuovo anno con un grande spettacolo la festa anni 50 al porto turistico al marino a brindisi al ritmo di rock and roll poi la mezzanotte aspettata in piazza voglia di fare festa abbattuto il freddo e ancora lo spettacolo pirotecnico i fuochi d'artificio per il 2016 scendiamo nel taglio basso l'addio al 2015 con video e apre la classe seguitissimo il concerto del gruppo Salentino dopo il brindisi in piazza con il sindaco di Pescara cambiamo pagina Montesilvano più di mille presenze in piazza per la festa e le gag di Vincenzo Olivieri e poi ovviamente come ogni inizio dell'anno i nuovi nati prima nata a Pescara con rimpianti avrei voluto partorire appenne questo fine anno 2015 inizio di 2016 segnato anche dalla chiusura dei punti nascita e dunque insomma anche la notizia dei primogeniti dell'anno assume una particolare rilevanza benvenuta Beatrice Cecilia ultimo fiocco rosa del 2015 qui vedete le belle fotografie andiamo andiamo avanti con la lettura del centro sempre nelle pagine di Pescara in mare le ceneri dell'ammiraglio suono poi scoppia la rissa davanti alla discoteca giovane in ospedale è un 33enne di San Giovanni Tiatino da chiarire le cause della violenta lite tra quattro ragazzi dopo i festeggiamenti ancora cronaca rogo nel locale piano terra in Corso Mantone fiamme a Pescara vecchia la causa è un frigorifero andato in cortocircuito fine dell'anno davvero con il botto per il locale piano terra nel cuore di Pescara vecchia dove all'angolo tra Corso Mantone e via Corfinio nelle prime ore del 31 dicembre è divampato un incendio mentre per fortuna il locale era ancora chiuso scendiamo nel taglio basso l'arma trovata a scafa mitraglietta in autostrada scattano gli esami balistici e poi nuova accademia paciocco presidente dei commercialisti il saluto di Salusest e poi finito l'effetto Star Wars code al botteghino per Quovado sale piena anche a Pescara per la prima del film di Checco Zalone Andiamo ancora avanti con il giornale Polmonite bimba trasferita d'urgenza la piccola di tre anni di Montesilvano ha avuto delle complicazioni respiratorie durante il ricovero in rianimazione e poi ritrovo podistico alla Madonnina corsa per ricordare tre amici e bagno in mare a Capodanno la direzione marittima sequestrati 9.000 kg di pescato sul litorale scendiamo anche nel taglio basso riserva ad annunziani affidati lavori centrovisite nella pineta opere per 154.000 euro e poi la novità discografica Capodanno il tormentone rap elettronica e melodia nel brano musicale di tre ragazzi pescaresi pensioni basse nasce un osservatorio non in fuga all'estero il record è degli abruzzesi in aumento gli anziani che lasciano l'Italia per evitare il caro sanità e le tasse alte tra le mete preferite le Canarie Romania Bulgaria Marocco Costa Rica e Malta e poi Melilla a Pescara la quinta sede nazionale del ISIA centro di eccellenza formativa nell'industria artistica l'evento in 4000 la mostra storica laurum la rassegna sulla città che potrebbe diventare museo permanente andiamo alla pagina di Montesilvano adesso conti in rosso casse del comune sempre più vuote multe uno su tre non le paga e spunta un buco di 500 mila euro nel 2015 i vigili urbani hanno elevato quasi 9 mila verbali ma 3 mila non sono stati mai saldati anche le imprese sono morose su 419 sanzioni amministrative solo in 134 hanno regolarizzato la loro posizione leggiamo anche le cifre che ci propone il centro 697 mila 384 sono nel 2015 i vigili urbani hanno elevato 8 mila 842 multe per violazione al codice della strada il totale ammonta come detto alla cifra precedente 275 mila 407 delle 8 mila 842 multe ne sono state pagate 5 mila 999 per un importo di 275 mila euro più o meno il dato attesta che a Montesilvano vengono pagate le multe degli importi più bassi e poi sono 2 mila 483 le multe non pagate per un totale di oltre 400 mila euro e ancora le multe del 2015 non pagate si aggiungono quelle mai saldate degli anni precedenti quasi 350 e poi l'importo delle 419 sanzioni amministrative del 2015 ne sono state pagate solo 134 pari a 9.496 euro di spalla di spalla Montesilvano dopo averle incendiato l'auto a giugno il 45enne riprende a pedinare la donna e la tempesta di sms e poi ai domiciliari ma continua ad insultare e minaccia la ex fidanzata finisce in carcere sempre a Montesilvano ladri al centro anziani rubati i soldi delle offerte a spoltore invece finiti i lavori apre il nuovo asilo via al traslogo a Santa Teresa si torna in classe l'11 di gennaio e poi troviamo ovviamente le pagine dedicate all'oroscopo adesso andiamo sul messaggero andiamo sempre alla pagina di Pescara poi vedremo anche le altre le altre pagine delle quattro province meno botti ma tante botte Maxirissa per l'anno nuovo questa è l'apertura scelta per la pagina di Pescara dal messaggero l'ite in discoteca tra cinque ragazzi degenera al parcheggio un ferito grave festa in piazza soddisfatto il sindaco tanto divertimento e niente eccessi e poi la commemorazione dieci anni fa la scomparsa dell'onorevole Nino Sospire oggi una messa ai gesuiti il 30 gennaio un docufilm per ricordare l'impegno politico e ancora l'emergenza polmonita e bimba di tre anni trasferita al Salesi di Ancona e nel taglio basso Beatrice è la prima nata del 2016 dunque il record è di questa bambina a Pescara poi sempre a Pescara per quanto riguarda lo smog targhe alterne anche se piove del vecchio il vice sindaco vogliamo favorire un cambio di mentalità per promuovere l'uso dei mezzi pubblici e limitare quello delle auto l'ordinanza avrà effetto dal 12 e resterà in vigore per tre mesi il centro-destra dice un rinvio per non disturbare shopping e saldi parcheggi di scambio allo studio e sulla Tiburtina per alleggerire il traffico in centro sosta più cara polizia stradale scientifica al lavoro una mitraglietta ritrovata sulla 25 indagini antiterrorismo e poi cenone solidale alla Caritas per i profughi e i senza tetto 20 volontari hanno assistito 183 bisognosi alla mensa diocesana serata in allegria oggi dal Papa cento fedeli di Francavilla aperta al santuario di Manopello la Porta Santa e ancora per quanto riguarda Francavilla premio Michetti provincia fuori dal CDA il sindaco Luciani attacca cento rame andiamo a vedere adesso anche la pagina di Chieti del messaggero e dunque ci spostiamo sulla pagina teatina 60 dipendenti carichieti minacciati dai risparmiatori il consiglio dei legali a direttori ed impiegati denunciate gli episodi alla procura pesante il clima nelle varie filiali prima azione civile per le obbligazioni il sindacato difende i lavoratori hanno agito rispettando la legge poi trovato morto al cimitero si è sparato con la pistola la tragedia Andrea Mammarella in una lettera chiede di essere sepolto vicino alla madre l'arma era rubata scendiamo nel taglio basso casa dello studente in centro approvata la convenzione per la città che cambia dall'aggiunta regionale il via libera al progetto ora si punta ai finanziamenti del ministero fiocchi rosa e fiocchi azzurri gli ultimi nati del 2015 e i primi dell'anno nel segno dei gemelli sono due gemelle le prime nate del 2016 venute alla luce una alle 2.24 e l'altra alle 2.25 gli ultimi nati anche in questo caso si tratta di una coppia di gemelli Samuele e Maia venuti alla luce alle 19.49 del 31 dicembre una gioia immensa per papà Davide Renzetti e per mamma Roberta Aliprandi che vedete nella fotografia e poi questura il bilancio più arresti e denunce meno reati reati aumentati del 33 e 35,44% e denunce salite dell'11,58% e ancora i reati denunciati dall'autorità giudiziaria sono scesi del 19,22% mentre risultano in calo del 14,45% anche quelli rilevati dalle forze dell'ordine quanto emerso da un riepilogo dei dati reso noto dalla questura di Chieti andiamo sulla pagina di Lanciano Vasto Ortona a pochi fondi si dimette il CDA dell'estate musicale un'offesa ai 10.000 euro della regione dicono da Lanciano il sindaco Mario Pupillo scusate promette battaglia una vergogna e un esimo sfregio alla nostra cultura a Vasto Istonienza attivata la rotatoria salanno eliminati i semafori a Lanciano armato di macete rapina una tabaccheria e poi a Vasto scoppia un petardo pastore rumeno ferito ad una mano andiamo avanti con la lettura del quotidiano il messaggero andiamo a Teramo Capodanno in piazza è stato un successo trionfale dimenticato il flop dello scorso anno di Marina Ray grazie a Filippo e Tommy Graziani brava e ironica Nicoletta D'Ale che ha condotto fino alle 3 del mattino sindaco scatenato in console sul palco con tanti selfie finiti su Facebook il commercio aspettando i saldi cominciano le svendite gli esercenti del centro storico anticipano già da oggi l'applicazione dei maxi ribassi e poi Matteo il primo nato ostetricia in festa il nuovo reparto tutto al femminile ha brindato per l'evento le nuove sale danno sicurezza nel taglio basso nessun ferito dai petardi solo qualche bicchiere di troppo ubriaco alla guida tampona l'auto all'uscita della discoteca atti vandalici su alcuni negozi questo è il bilancio dei controlli di capodanno andiamo adesso in provincia la pagina di Giuliano Varoseto e della Val Vibrata di Filippo i domiciliari e poi l'appello continua a far discutere la vicenda surreale dell'ingegnere Giuliese condannata senza saperlo cambiati gli avvocati in campo Gentile e Marconi ed il primo farà visita alla donna nel carcere di Castrogno si infittisce il mistero delle mancate notifiche relative al processo ad Albadriatica lungomare invaso dai Vucumpra anche a Capodanno a Giulianova Giulia Servizi in vendita ma tra le polemiche a Roseto primi tuffi in mare rispettata la tradizione di Capodanno cinque coraggiosi sfidano il freddo poi la tradizionale partitella a calcetto sulla spiaggia c'è anche un Ultras a Tortoreto ponte ciclopedonale in abbandono da quattro anni senza manutenzione pericoloso adesso rischia di chiudere a Giulianova Granate investì i soldi in oro e c'è un complice adesso andiamo a vedere la pagina di L'Aquila dunque torniamo sempre al quotidiano il messaggero andiamo a vedere insieme l'apertura della pagina aquilana le mura illuminate riaccendono speranze Capodanno mozzafiato grazie alla soprintendenza che ha testato lungo viale della Croce Rossa il progetto di valorizzazione della cinta muraria arberghi pieni e veglioni boom nonostante la crisi la città prova a coltivare il sogno di un 2016 snodo cruciale della rinascita l'anno che verrà un nuovo trend legato alla riscoperta delle bellezze presenza record al Museo Nazionale e poi cocaina per i cenoni in manette un cinquantenne paganichese è stato fermato alle 18.45 del 31 dicembre dai poliziotti al casello della A24 a Paganica l'anziano scomparso è stato trovato morto in campagna in località Ornatina nella parte alta di Paganica Dilio Francesco Silveri l'anziano scomparso lunedì pomeriggio nella stessa frazione aquilana l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle 17.30 dopo che accompagnato in auto da un conoscente si era fatto lasciare nei pressi della sua vecchia casa vicino alla zona rossa del paese di ricerche qui hanno subito partecipato i carabinieri i vigili del fuoco la forestale e il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico si sono infatti concentrati al centro del paese tra le case inagibili e disabitate dove inizialmente si è temuto potesse essersi perso il corpo senza vita è stato invece ritrovato scusate ritrovato su una strada sterrata nella campagna tra Camarda e Filetto in una zona impervia e irta di vegetazione scendiamo nel taglio basso della pagina chirurgia morta caso chiuso suicidio il fratello si sfoga nella sanità non c'è meritocrazia ma si va avanti per amicizie e favori e poi la paura dopo la festa la scossa 2,9 della scala Richter proprio all'inizio del nuovo anno il terremoto è tornato a dare segnali di sé andiamo sulla pagina dedicata sempre all'Aquila la nuova seggiovia affidata alla Leitner il presidente del centro turistico Giuliani i lavori alle fontari dovrebbero partire a primavera per terminare in autunno e poi accordo Fenix preliminare di vendita per quanto riguarda il comune che ha sottoscritto con la accord Fenix il preliminare di vendita del cosiddetto modulo 1 dello stabilimento ex Italtel e poi istituzioni culturali dal Cipe arrivano 1,6 milioni di euro decisione della giunta comunale presieduta dall'assessore Di Stefano l'intervento reso possibile per la rimodulazione dei fondi previsti per il turismo sul massiccio e poi il bel gesto un aiuto per le suore celestine di San Basilio il vedete di Pangrazio il presidente del consiglio regionale che consegna l'assegno alla badessa Sor Margherita andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona genitori infuriati via i figli dal doposcuola chiesta l'immediata sospensione delle nuove tariffe comunali che prevedono una stangata per le menze il provvedimento coinvolge tutti gli iscritti alle materne elementari e medie sarà presentato un ricorso al tarri il comune deve rispondere in tempi rapidi sulla definizione delle fasce di reddito prestabilite poi la sottoscrizione dei cittadini a Trasacco vince la solidarietà riapre la pasticceria data alle fiamme ad Avezzano non violentò la ballerina di night assolto di toro e poi Avezzano cari cittadini ecco il nuovo piano regolatore difficile fare il sindaco ma io non mollo per il bene della città dice di Pangrazio a Sulmona boss mafioso ma almeno un agente di custodia lo ha insultato minacciato e poi schiaffeggiato davanti a tutti una sorta di punizione che si riserva ai bambini per far capire che comanda lui 54 anni mafioso siciliano condannato all'ergastolo all'altro la vittima 46enne agente di polizia penitenziaria una scena di ordinario ribaltamento dei ruoli tra controllore e controllato che la will penitenziari chiede venga punita duramente in modo esemplare con l'immediato allontanamento del detenuto dal carcere di via Lamaccio l'episodio è avvenuto il 30 a sera scatenato da futili motivi adesso andiamo a vedere insieme lo sport regionale e dunque torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire la pagina dello sport in apertura c'è una bella intervista a Di Francesco il tecnico pescarese a tutto campo Di Francesco vota la Juventus ancora qualcosa in più sono ambizioso ma prima di tutto voglio crescere con il sassuolo così Di Francesco che ricorda il giornale è stato campione d'Italia con la Roma nel 2001 andiamo adesso alla Serie B e dal Pescara il bilancio del direttore generale ripeto questo Pescara è il futuro assicurato siamo in corsa per la Serie A e c'è un parco giocatori di assoluto prestigio a Khmerad non ne so nulla ogni tanto non vengo messo al corrente di alcune trattative ed è una cosa strana può accadere però a volte mi arrabbio perché sono permaloso e poi la Padula non è una sorpresa rinforzo in difesa potremmo scegliere anche un giovane riportando qui Vitturini o Perrotta Piccolo dice e repetto non si faranno aste e poi Domizzi dice sì al telefono ad Oddo si tratta per Piccolo il Cagliari potrebbe fare un pensiero al portiere Aresti è vivo il mercato del Pescara i dirigenti e l'allenatore hanno già stabilito le priorità sono i tre colpi da mettere a segno nella prima fase del periodo dei trasferimenti in difesa salvo sorprese arriverà Maurizio Domizzi classe 1980 dunque questo è il colpo principale del Pescara per rinforzare il reparto difensivo restiamo sempre alla Serie B ma adesso parliamo della Virtus Lanciano i conti della Virtus i migliori sono in partenza per ridurre i costi il club nel mercato invernale cercherà di cedere quei giocatori che hanno gli ingaggi più alti e poi del grosso tasso alcolico troppo alto ma per gli avvocati del terzino del Bari non c'è nessun con lo schianto avvenuto a Bergamo andiamo avanti con il giornale adesso il basket di Serie A2 domani Chieti Fortitudo Anconetani il cuore dice Forza Proger la sfida vista dall'ex presidente dei bolognesi è Teatino Doc la pallacanestro può essere un traino per il relancio di Chieti come la cultura ma le istituzioni dovrebbero aiutare l'amico di Cosmo dice Anconetani e poi Roseto cerca l'accesso alle finali di Coppa Italia la McEnergy verso Trieste se vince e Verona perde a Iesi guadagna il pass per il torneo tricolore andiamo avanti con lo sport sul quotidiano il centro il ciclo cross due gli appuntamenti di Chieti salgono sul podio nove campioni abruzzesi tra le stelle nazionali assegnati i titoli nelle gare sul circuito teaterno con 180 atleti domani la graduatoria finale con le gare di penne poi Team Iachini Trionfa dell'Orso superstar in quasi tutte le gare Wisp oltre 40 partecipanti alla sfida sull'area dello scalo ecco le classifiche delle varie categorie in competizione poi il volley di A2 Cetrullo ritrova la Sieco due anni bellissimi l'opposto francavillese di Reggio Emilia domani tornerà ad Ortona per una sfida da Amarcord andiamo ancora avanti l'ultima pagina per quanto riguarda lo sport del centro con il calcio a 5 da oggi fino a mercoledì a Cononella Coppa Italia avvia la sfida tra 16 squadre serie C1 maschile e C femminile le gare ad eliminazione diretta le due vincitrici andranno alla fase nazionale lo scorso anno i titoli andarono alla Real Dem per il maschile e a Tollo 2008 per il femminile previste anche due gare delle rappresentative allievi e giovanissimi rapidamente prima di chiudere andiamo anche a vedere lo sport sul quotidiano il messaggero e dunque andiamo a recuperare la pagina dell'Abruzzo dell'Abruzzo Sport per vedere insieme anche il messaggero Pescara rispunta Boacì l'attaccante inseguito in estate dice addio al Roda e torna all'Atalanta e i Biancazzurri ci rifanno un pensierino su Piccolo lo Spezia e in pole position hanno fatto un'offerta rinunciabile alla gente del calciatore ma il Delfino spera ancora e poi Mandragora verso la Juve e i Bianconeri nel destino per quanto riguarda il talentuoso centrocampista del Pescara poi Lanciano si parte con le cessioni scattano le cessioni che la società ha deciso per abbattere i costi il capocannoniere rossonero potrebbe partire in avvio di mercato andiamo avanti Terramo si raduna la meglio gioventù da martedì convocati dal fiduciario regionale Mariani 35 tra i giovani talenti abruzzesi più in vista nell'atletica i campionati di società di corsa campestre giovanile aprono il 10 gennaio la stagione open poi il caso del grosso non ero ubriaco al momento dello scontro ancora per la Lega Pro l'Aquila prova il portiere Scotti piace Chirile Letti e poi il Teramo Cenciarelli vola a basso Teramo devi salvarti la classifica dice che non possiamo pensare ai playoff così il centrocampista bianco-rosso per la palla a nuoto tra pescare club acquatico la stagione parte con il derby andiamo a vedere anche il calcio di serie D ed il ciclismo Chieti centrare i playoff per sperare nel ripescaggio e poi come detto per il ciclismo la squadra GM Europa Ovini si gemella con la Proger è tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa mattino 6 finisce qui tornerà domani puntuale alle ore 7 vi ricordo anche gli appuntamenti con la nostra informazione alle ore 14 alle ore 19 con il TG6 Abruzzo poi alle 14.45 alle 19.45 con il TG6 l'Aquila grazie ancora per averci seguito da parte mia di nuovo auguri per un buon e felice 2016 buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.